Nelle quattro chiacchierate che abbiamo fatto fino adesso abbiamo parlato della missione, della missione di Gesù, della missione degli Apostoli e stavamo parlando della missione della Chiesa oggi, della nostra missione e tu, Romano, siccome avevo prospettato questa cosa come un andare verso una bella conclusione della storia dell'umanità e della salvezza in base a questi progetti avevamo guardato cosa dice San Paolo nelle sue ultime lettere, Colossesi e Defesini tu hai tirato fuori giustamente, ma si parla anche di momenti brutti finale di momenti brutti finale, più o meno avevi detto questo, no? E allora ho detto va bene, prima di continuare e finire di parlare della missione della Chiesa guardando il Concilio, i documenti del Concilio, specialmente la Gaudium et Spes la Chiesa e il mondo moderno, prima di fare quello vale la pena di domandarsi cosa succede su queste battute finali io, a dirti la verità, su queste battute finali in base a quello che dice la Bibbia non sono molto incline a ingrandire, oggi tanti parlano di queste apostasie moderne segnali moderni che le cose, che sarebbero gli ultimi exploit delle forze del male ma io su quelle cose lì non sono molto esperto e non sono molto convinto anche perché a volte ci sono delle frasi che si interpretano alla lettera mentre invece il significato non è quello per esempio il discorso di Gesù sulla fine del mondo discorso escatologico lo chiamano perché la parola escatologia viene dal greco che vuol dire le ultime cose una volta si diceva i novissimi noi altri era il latino, novissimo su dire l'ultimo quello più nuovo vuol dire l'ultimo e poi adesso invece si accetta la parola greca escatà le ultime cose ed è venuto fuori questa parola sull'escatologia Gesù ha parlato di queste cose per esempio nel Vangelo di Matteo capitolo 24 e nel capitolo 24 parla delle tribolazioni e poi dice subito dopo le tribolazioni di quei giorni Matteo 24, 29 il sole si oscurerà la luna non darà più la sua luce le stelle cadranno dal cielo le potenze dei cieli saranno sconvolte ecco queste frasi qui sono interpretate alla lettera era come se veramente il sole dovesse oscurarsi le stelle cadere poi quando arriva qualche terremoto si dice ecco qui siamo alla fine in realtà se tu prendi la Bibbia non so di Gerusalemme questa qua ti mette queste frasi in corsivo come fossero una citazione e a fianco ti mette queste frasi qui sono come prese da Isaia capitolo 13 capitolo 24 oppure da Amos capitolo 8 cioè in questi profeti si dice così ma lo si dice per dei castighi del passato non per la fine del mondo Isaia lo dice non so dei nemici di Israele di Edom che finiranno sarà la fine di Edom oppure la fine degli assiri o del regno del nord diciamo e per dire che avverrà quella fine ti dicono il sole si oscurirà la luna non darà più la sua luce eccetera ora quando c'è stata la fine di Edom di Moab dei nemici di Israele degli assiri il sole non si è oscurato la luna non è che ha smesso di dare la sua luce e quindi non vanno interpretate alla lettera queste cose qui ma vanno interpretate su 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 certe epoche che finiscono il giorno di quando il figlio dell'uomo verrà vanno interpretate ogni volta che c'è un cambio di epoca ecco che arriva questo castigo di Dio eccetera allora non vanno prese alla lettera e mi sembra che bisogna correggere questa questa mentalità pensando a queste cose a me è venuto in mente di tu avevi guardato questo mio libro il tempo della fine dove io ho fatto un articolo che accenna queste cose e che spiega come vanno interpretate queste queste idee via che ci sono intanto io nell'ultimo articolo di questo libro corollario sull'escatologia e sull'ecologia ho detto che per noi cristiani c'è un certo discorso su della providenza di Dio che guida la storia la storia della salvezza e ho citato un certo Panenberg che è un teologo protestante io c'ho lassù la la sintesi secondo me è uno dei migliori perché ha veramente la sintesi completa dopo aver scritto tanti articoli ma in uno di questi articoli che aveva scritto antropologia in prospettiva teologica descriveva come dobbiamo concepire questa storia dell'umanità secondo il progetto di Dio un progetto che nella lettera agli Efesini e nella lettera ai Colossesi ho ricordato San Paolo dice che Cristo è quello per mezzo del quale in vista del quale è stato creato tutto oppure Cristo è quello che è venuto per mettere insieme tutte le cose per ordinare tutte le cose sotto di Lui come capo e quindi ed è in base a questo progetto che dice c'è ma c'è anche qualche guaio che succede come tanti dicono eccetera io ti leggo poi se non va bene lo tagli in questa cornice e partendo dal presupposto che solo l'uomo grazie alla sua eccentricità è capace di vedere il collegamento degli eventi in una catena logica eccentricità vuol dire tutte le altre creature non capiscono non si pongono neanche il problema dove andiamo a finire come deve avvenire invece l'uomo tra tutte le creature è quello a cui Dio ha dato il cervello la luce per capire e per domandarsi dove andiamo come finiamo allora l'uomo grazie alla sua eccentricità cerca il significato della storia tenendo anche presenti considerazioni e risultati dei pensatori che prescindono da Dio questo fa Pannenberg senza il quale Dio però la storia non è pienamente comprensibile evidentemente ci sono gli atei che dicono non si capisce niente e noi invece che abbiamo la fede è anche giusto dire beh allora come dobbiamo concepire questa storia questa finale della storia continuo è difficile infatti capire il disegno che ogni uomo scopre nella sua vita e nella sua umanità un disegno che è al di là delle sue stesse forze e capacità è impossibile che da un miscuglio così caotico di eventi e di forze di individui e di popoli di riuscite di fallimenti di scontri violenti tra potenze contrarie anche nucleari riesca a comporsi una linea storica in progresso e quale è quella che noi crediamo e che oggi vediamo e di cui beneficiamo se non c'è un Dio a tirare le fila di tutto attraverso tutti questi eventi il singolo e l'umanità si integrano e hanno la possibilità di formarsi di crescere di progredire materialmente spiritualmente anche il male in tale cornice ha la sua spiegazione questa è la maniera di concepire la storia come progetto di Dio ma come nel crescere di una pianta o del bambino anche nella storia tutto è già contenuto germinalmente fin dall'inizio non deterministicamente ma nella forza vitale che è lo spirito lo spirito che c'era già fin dalla creazione del mondo e che spinge e porta avanti questa evoluzione che ha cominciato dal primo Big Bang 14 miliardi di anni fa se viene superata la vecchia distinzione tra natura e sopranatura il messaggio biblico sullo spirito quello infuso in Adamo quello che alleggia su tutta la creazione e quello tenutaci dalla morte e risurrezione del nuovo Adamo che è Gesù si rivela come la forza prodigiosa che fa gemere tutti gli esseri portandoli verso la realizzazione piena del progetto di Dio come dice San Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani sulla base ti leggo ancora la conclusione di questo paragrafo sulla base del discorso di questo Pannenberg si può contrastare debitamente l'insegnamento abbastanza negativo di Le Witt molto in voga anche nel mondo cattolico Le Witt è un pensatore tedesco sul significato e il fine della storia questo è un insegnamento negativo e tanti anche cattolici non si vede niente non si capisce niente l'insegnamento di Le Witt però ha delle radici ebraiche è un ebreo di origine ora non si può pretendere che gli ebrei vedono un significato cristiano nella storia perché per loro Gesù Cristo aspettano il Messia finale ma Gesù Cristo non è quello e invece per noi Gesù Cristo guardando anche quello che dice la lettera agli Efesini e ai Colossesi è quello che ha creato tutto per me del quale è in vista del quale è stato fatto tutto quello che viene per ricapitolare rimettere tutte le forze anche quelle cosmologiche sotto di Gesù Cristo capo di tutto questa è la concezione cristiana l'altra concezione cristiana della storia e questa mi sembra è la cosa principale poi vabbè ci sono varie idee ideologie politiche per continuare su queste pagline che ho scritto cioè c'è c'è della gente tipo Hitler o i nazisti che magari vanno dietro a queste cose ma poi dopo ci ficcano come base l'idea che deve trionfare la razza tedesca e allora bisogna uccidere qui bisogna ammazzare là e queste sono ideologie che vanno dietro al discorso che questo Pannenberg ha tracciato però lo falsano per i loro pregiudizi bisogna sempre stare attenti a non pensare ecco finalmente siamo arrivati perché come dice Stalin come dice anche un Papa o come dice la visione dei tali delle apparizioni sono tutte ideologie che sfruttano questa realtà che dice la Bibbia secondo le loro concezioni le loro opinioni e non bisogna andare dietro a queste cose qui poi c'è anche un capoverso sulla teologia del progresso secondo me anche nel progresso umano si può vedere questa opera di Gesù Cristo di cui parlavano gli Efesini e i Colossesi perché tutto sommato il progresso è nel mondo occidentale che è il mondo cristianizzato tant'è vero che adesso dal sud arrivano qua dall'est arrivano qua quelli che hanno fatto il progresso sono magari degli atei sono degli scienziati che non non si sono posti questi problemi teologici però sono tutti strumenti di questa opera che Gesù è venuto a portare nel mondo duemila anni fa e che piano piano si sta realizzando nonostante che ogni tanto ci sia qualche colpo di coda adesso poi nelle pagine successive faccio vedere vari testi tipo quello lì che vi ho detto all'inizio che si trova in Matteo 24 versetto 29 sul sole che non dà più la sua luce ma ce ne sono altri per esempio passa la figura di questo mondo prima Corinti 731 oppure San Pietro la seconda lettera di San Pietro capitolo 3 versetto 7 scompaiono i cieli si incendiano i cieli eccetera probabilmente San Pietro lì la si è impressa la storia dell'incendio di Roma e della persecuzione di Nerone insomma quindi sono circostanze che noi non sappiamo più bene che hanno dato origine a queste frasi sulla fine concepita in queste maniere perciò io non sono incline ad andare a vedere se nelle vicende di adesso nei terremoti nelle come la chiamano nell'apostasia adesso deve arrivare l'apostasia sì può darsi che il mondo adesso nel mondo il potere del diavolo dia qualche colpo di coda ma non dobbiamo trovare qui delle indicazioni per concludere ecco adesso siamo alla fine guardiamo l'orologio eccetera eccetera ce l'hanno detto e cioè che il mondo è infinito non è non è che dando fuoco alla terra si brucia tutta la terra e beh brucia tutta la terra sono miliardi di terre ci sono miliardi di di sistemi solari la nostra terra gira attorno al sole poi attorno alla terra stessa ci sono i satelliti come la luna o attorno agli altri pianeti ci sono anche lì dei satelliti cose enormi solo un sistema il nostro il sistema solare ma il sistema ci sono miliardi di comete e dentro queste comete ci sono miliardi di sistemi solari e quindi è una cosa enorme perché dobbiamo andare a pensare che c'è qualcuno che va incendiando come è possibile anche un terremoto d'accordo sono cose che fanno dispiacere ma ma sono cose piccole che non disturbano questo progetto che Pannenberg ha descritto non lo disturbano ci sono stati tante catastrofi nella storia dell'evoluzione del mondo da quando è cominciato da 14 miliardi di anni fa che se non ci fosse stato questo progetto si distruggeva finiva tutto e invece dopo ogni catastrofe si fa un passo avanti e sono spariti i dinosauri e non è stata la fine noi senza dinosauri siamo progrediti poi alla fine sono spuntate le scimbie poi dopo le scimbie sono spuntati gli uomini e quindi c'è qualcuno che conduce questa linea nella stessa natura si vede questa corrosione che porta alla rovina come la chiamano la legge dell'entropia cioè ogni organismo si corrompe però non puoi dire che il mondo si corrompe perché sono 14 miliardi di anni che questo mondo si sviluppa secondo delle leggi molto belle con delle catastrofi fin che vuoi però se noi guardiamo noi altri che possiamo ragionare con la testa diciamo no qui c'è un progetto di Dio e questo progetto è nelle mani di questo Gesù in base a quello che la nostra fede ci dice che era Dio ha creato tutto lui poi è venuto nel mondo per fare liberare il mondo dalle potenze del male e realizzare questo progetto sull'umanità può bastare certo grazie Don Enzo e alla prossima volta ecco la prossima volta facciamo la missione della Chiesa nel mondo in base alla Gaudium et Spes leggiamo qualche testo di quelli e e Grazie.